è una squadra centrata che vede un obiettivo e lo vorrà raggiungere gambe che non hanno mai tremato e Perugia che è stato domato oggi abbiamo preparato bene la partita, i ragazzi l'hanno interpretata in maniera giusta io ho fatto giocare le due punte perché sapevo che sono stati loro due la chiave della gara secondo me, anche Pippo Falco a sinistra gli ho chiesto sacrificio, l'ha fatto molto bene hanno fatto tutti molto bene, però loro ci hanno permesso di rimanere alti finché hanno avuto energie, poi è chiaro quando gli sono finite le energie siamo dovuti andare a 5 che a me non piace molto perché poi togli pressione offensiva ti devi abbassare, va bene così oggi c'era da portare in fondo, da prendersi questa finale adesso lascio ai tifosi, a tutti le euforia, noi dobbiamo stare lucidi, recuperare e prepararci bene lavoro, testa bassa, l'ho fatto nei momenti di difficoltà, però ho anche la maturità per capire che adesso, ora bisogna triplicare l'attenzione, la determinazione, non dare niente di scontato perché la finale non conta nulla, bisogna vincere